Musica Ciao ragazzi e bentornati con Organ Trials Director's Cut Allora, oggi cominciamo, siamo qua a Las Vegas Click anywhere to continue, clicchiamo Vediamo cosa possiamo fare a Las Vegas Non sembra che ci sia area di gioco d'azzardo Vediamo il party, io sto messo male Face, sta bene, diala back, neanche a dirlo Sta messo bene, ma se guardate, visto che rompe le scatole E gliel'hanno letto pure su un altro video Come commento a uno dei video di Hotline Miami 2 Ha rotto i coglioni Scusami, ti voglio bene, ma hai rotto i coglioni Sei sempre un pochettino sotto la media Guardate, tranne me che io però mi guadagno il pane per tutti quanti Voi siete dei parassiti praticamente Tu, mia moglie, Romero, fanboy L'ho ucciso, va bene, a prima puntata Mamma mia, ancora penso a fanboy Roadmap, vediamo dove siamo intanto Abbiamo viaggiato davvero tanto Durante questi episodi Siamo quasi in dirittura d'arrivo Ragazzi, una cosa, vedete che non c'è l'assicurazione che si riesca a vincere in questo gioco Potrei arrivare alla fine e morire E vista la mia incapacità oramai rinomata Potrebbe essere Upgrade You can find niente Set piece Andiamo sempre alla stessa velocità Supply Vediamo cosa c'è Combat training Qua abbiamo tutte le cose che possiamo avere Siamo messi con fuel decente Scrap molto alto Food basso La macchina è al massimo Direi di vedere cosa si può comprare Qua c'è di tutto che si può comprare Buy ammo Che ci serve Buy Buy medikit Ci sono dei buy medikit Buy food Buy scrap Buy fuel Compriamo un pochettino di carburante Buy medikit Ah, non possiamo comprarlo Quindi dobbiamo andarcene a lavorare, no? Done Town Supply scavenge Andiamo a combattere Devo riprenderci la mano Perché è una settimana che non Maledetto di sparare di meno Ma non so neanche come Non posso sparare di meno Zombie E high Per tale motivo Devo cercare di Di fare velocemente Guardate come aumentano Devo Oh, 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 oh Mi arriva uno frontalmente C'è qualcosa altro che compare Anche se non credo che possiamo andarci a prendere niente Ce l'abbiamo fatta Abbiamo portato 100 onge Che non so quanto siano in chili Di cibo E 40 di scrap Va bene Ci servono ancora Qua ci serve più cibo Decisamente più cibo Attività bassa Questa in genere è quando ce la prendiamo nel sederino Oh, il mostro Oh Oh, boss fight Come cazzo si fa sto boss fight Oh Guardate, no, là Che cattivo Guardate Lo devo Come ti uccido Oh mio dio Ciao boss Sei stupido Oh Andiamo a prenderci quella schifezza E ci la facciamo 450 di cibo Carry 350 Va bene Non è andata Bene Male Andiamo a In città Compriamo Anzi Vendiamo Vendiamo un po' di cibo Self use Self food Parapara 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 Mamma mia Quella boss fight C'è andata di culo Se non avessi preso L'opzione Per Il potenziamento per correre più veloce Sarei morto Vai, 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 abbiamo 220 Vai fuel, che ci serve Pam Vai Vai scrap, vai food, vai medkits E sono finiti i medkits Vai scrap Non ci interessa Ma io me ne farei un'altra Di scavenge Cane dite Sì Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa Qua c'è No, ma vaffanculo Che cosa sfigata che ho fatto Deadly Ah, che bello ragazzi Ci sanno benissimo Oh mio dio Qua Riusciremo Mi sa A fare meno di niente Se sopravviviamo Oh 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 Tutti qua sono Siamo col Deadly qua Che incombe Mi abbiamo portato via quasi niente Continuiamo Proviamo di nuovo Non ci voleva quella cazzata che ho fatto soldi Deadly di nuovo Portiamoceli in giro qua Cominciano a salire A scendere A venirci da tutti i lati Via 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 Andiamo nel party, andiamoci subito a medikitare perché ne abbiamo uno Ok ragazzi non siamo medikit, niente più, done, ok Non c'era niente in città da buy, niente, buy food, buy scrap Sell food, abbiamo 350, a un certo punto ragazzi lasciamo Las Vegas Non ci ha portato tanto bene Abbiamo trovato della frutta selvatica Ok abbiamo, ci sono pezzi di macchina rotta che bloccano la città, ci vanno a perdere un'ora Andiamo sulle statistiche You find some roadkill, it's probably safe to eat Prendiamo, abbiamo trovato dell'altro cibo Abbiamo trovato gli animali morti che forse, probabilmente, si può mangiare There is an awkward silence, c'è un silenzio strano Va bene, allora Va bene, allora Questa me la dovete spiegare Aspetti un'ora mentre di Alabek vomita nei cespugli Cioè, ma se non c'è quasi un cazzo da mangiare, come minchia fai a vom... Ahhhh Va bene Va bene Vomita nei cespugli Per un'ora, un'ora Che cazzo hai mangiato? Quanto sei grasso? Ahhhh Si continua Il sole lì va Per fortuna ma chi ancora non si è rotta e stiamo arrivando da qualche altra parte The Slowdown, Sneak Pass, The Dark Lord, Zombie Ok, rallentiamo perché ci sono... c'è un'orda di zombie E siamo arrivati alle miniere Che bello Perché per tutti i posti possiamo arrivare alle miniere Dove ci sono un sacco di cose, no? Clicca in un posto qualsiasi per continuare Vai Vediamo se hanno Medikit Non hanno un cazzo Hanno solamente Scrap Ehm... Repair E io riparo Andiamo con l'80% Vediamo se ce la faccio Sì! In genere fallisco con l'80% Ehm... Upgrade Non c'è nessun party Ehm... Talk to Stranger no Diciamo di farli riposare per numero due ore Rest Perché qua Dialabek sta male Ehm... Faye Pure lei non è che sta messa bene Mi sa che ci vorrebbe una terza ora Rest Riportiamo tutti quanti a full Ora Kill no... Set piece Slow Continua ad andare piano Supply scavenge Combat training Abbiamo tutto Non c'è un combat trainer qua Town Combat trainer Che cosa hanno? Money Find more money Ehm... Questo costa 80% Ma dovremmo... Ehm... No... No ragazzi Tanto alla fin fine... No Ma anche no Ehm... Ora Dobbiamo fare un po' di scavenge Sì... Medium Come attività Che non è male Speriamo che non ci arrivi nessuno Zombo Di qua E un bel po' che non troviamo Proiettili noi Ok Prendiamoci questo scrap Lì non ce ne frega troppo Di quello che c'è Prendiamoci quello che c'è qua sotto E preghiamo Ok Sembra che ce l'abbiamo fatta Ok abbiamo trovato 20 e 55 di scrap Ok Si continua Non è andata troppo bene come loot Attività media Un po' di soldi abbiamo trovati E c'è un boss fight C'è l'orso ricchione Che noi lasciamo qua Gli spariamo in testa Guardate come corre Non voglio ammazzarlo Va bene Mi sa che Lo dovrò fare Guardate che brutto Ce la facciamo a prendere il cibo Assolutamente No 70 dollari Però meglio di niente In questo punto Abbiamo abbastanza cibo per ora Facciamo un'altra scavenge Vediamo come attività Vediamo come attività Low Buono Un po' di dollari pure Cerchiamo di non sparare Se possiamo evitarlo Si continua Si continua No No la ragazzi è morte per ora Vediamo se possiamo fare un giro un po' più largo E il giro più largo ci porta in ancora più morte praticamente Ok Ci abbiamo fatta Attiriamoli Per fortuna sono sempre zombazzi Quindi non sono troppo geni Ma io sono estremamente stupido come essere umano Quindi non è che Non arriveremo mi sa a prendere quello là sopra Però ci proviamo tagliando Niente 5 dollari e 20 di cibo Non va neanche i proiettili Scavenge di nuovo Quella boss fight non ci voleva Qua abbiamo trovato più cibo Però l'attività è alta C'è ancora più cibo là Oh 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 Ciao andiamo corri 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 corri很多 Mamma mia vaffanculo Proprio mi ha chiuso quello stronzo là Andiamo a vedere nel party come sono messo Non sono messo bene Medic it Non ho medic it Qua mi si è acceso l'allarme la sveglia Io sono l'unico con la sveglia a mezzogiorno ragazzi Macchina, supply Vediamo se c'è un qualcosa come Jobs, vediamo che hanno come lavori Bandits there are no Perché ragazzi usiamo un sacco di proiettili per questi banditi Supply trade Vediamo cosa vogliono A stranger is willing to trade one of their fuel for one of your muffles No A survivor is 40 of their ammo to offer for 13 of your food Yes, 40 per 13 di cibo Subito Ehi, you encounter now, keep waiting Aspettiamo ragazzi Tanto Ok, you encounter now one Aspettiamo un po' di più, tanto al massimo scende un po' il cibo E' un po' la vita pure Eh, a person who wants 43 of your food for one of their battery Ok, sì, prendiamoci una batteria A survivor Per 40 di cibo A survivor is one of their battery to offer for 94 of your food Sì, un'altra batteria Keep waiting Ragazzi, al massimo giochiamo un po' più di cibo Io vorrei un medikit Caspita Non sono messo bene You meet someone who will spare one of their medikit for one of your tire Sì ragazzi, sono messo male Keep waiting Ho dovuto dare un caspita di copertone per You encounter now one Continuiamo stiamo andando Bassi di cibo però Possiamo sempre comprarlo Provo male che vada A survivor is one of their tire to offer for 44 of your ammo No A survivor is one of their tire to offer for 44 of your ammo No Keep waiting Vediamo A stranger is willing to trade one of their tire Quindi copertone for two of your medikit No, non ce lo neanche You meet someone who will spare one of their tire for four of your fuel Quando abbiamo di costo No Abbiamo abbastanza copertone You meet someone who will spare one of their tire for 27 of your dollars Money, sì Diamogli ai soldi Keep waiting Ragazzi, facciamo un po' di scambi Un altro che vuole, sì Medikit per uno dei nostri copertoni Sì Keep waiting Mandiamo di scambi Wants two of your medikits for 39 No A stranger is willing to trade one of their tire for two of your medikit No Keep waiting Ragazzi, vogliamo medikit per ora Eh Ok So one of their tire to offer for one of your muffles No Dai Medikit party di macchina Veloce A stranger is willing to trade six of their scrap for 17 of your ammo No No Appassare once two of your medikit for one of their tire for 11 of the ammo No, questo è pazzo Voleva per 11 proiettili due medikit Pazzo Ok Appassare once forty of your food for one of their tire Sì 40 di cibo per un copertone subito Five of their scrap to offer for 69 of your food No No Non ce ne frega niente Abbiamo tanto di quello scrap Keep waiting Ok Ok, once one will spare 14 of their dollars for one of your tire No A stranger is willing to trade one of their battery for one of your medikit No Done Ragazzi Ok Trade Andiamo nel party intanto Medikit Suvolsciente subito E poi Done E mettiamo un pochettino di rest Un Due ore Rest Facciamo di riposare Ok Done Ora Andiamo di nuovo in città Bye Non c'è nessun cibo Town Supply Scavenge Cerchiamo di scavenge Cerchiamo pure di non L'attività è bassa Ah È bassa la minchia È bassa Un cane l'ho ammazzato Guardate come sono veloci sti cazzo di cani Cibo Andiamo velocemente a prenderci col cibo E ce lo facciamo perché ci serve davvero tanto Preso Non sprechiamo più munizioni Ok Abbiamo preso 370 di cibo E 20 dollari Bingo 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 Lasciamo questa cazzo di città E si continua E si continua Alla prossima Vediamo dove siamo ragazzi Ma siamo messi bene C'è un corrombo di un suono Tipo brum Viene dalle nostre spalle Quindi Che cazzo è Driving instruction You've used to arrow keys to move Don't let the enemies It's the station wagon Ok ragazzi abbiamo un amici qua Ok ragazzi Ah è da passare in mezzo ai nemici Perché la station wagon si distrugge Non capivo questo Va bene A posto cercavo di metterli di sotto Abbiamo rovinato la macchina In maniera pazzesca Ci costava 200 ziliardi di scrap Ammesso Ammesso che ce la facciamo pure Oh mio dio Cazzo sono Ma come fanno a essere più veloci Da una station wagon Siamo riusciti a sopravvivere Con la macchina distrutta Statistiche Fuel Cos Zombie activity Law Ok You notice something going on A way off From the road Will you get And look No assolutamente Ragazzi andiamo Facciamoci i cazzi nostri Che viviamo di più La station wagon Fall asleep With a crash Into the parked car Mi addormento Mentre E E E sbatto contro una macchina Questo non è il coglione stavolta Mamma mia La station wagon A fire in your car Destroy one tire Come cazzo Un fuoco dentro la macchina Distrugge un copertone Va bene A military block Impeze your progress For an hour C'è un bocco militare Che blocca la strada Per un'ora E fin qui tutto bene Dobbiamo ripare La station wagon Ci costerà Zidiarti di scrap Romero Has Mislis Che cazzo è Mislis Romero Non lo so Che cazzo abbia Ok Siamo a Salt Lake City Famosissimo Ora Quello che dobbiamo fare Subito macchina Ripara ma tantissimo Non andiamo Meno dell'80% Repair Dai Ok Repair Veloce Bella Così ti voglio Andiamo sull'88% Per quanto sbagliamo Dai Ok 88% Ripair Tanto abbiamo tanto scrap Ragazzi Possiamo pure Cominciare a venderlo Volendo No Con l'88% Ripair Di nuovo Dai Ok Macchina Full Done Party Rest Facciamo Per tre ore Riposare per tre ore Vediamo come va Tanto cibo Ce l'abbiamo Quanto mangiano questi? Ok Poi Abbiamo Talk to Stranger Car Roadmap Upgrade Upgrade Abbiamo sempre quello là Roadmap Ragazzi Vorrei vederla tutta la roadmap Mi dà soddisfazione In volta che guardo questa cazzo di roadmap Guardate quanto abbiamo viaggiato Tutte le zone Che sono state bombardate Mio dio Qua Siamo quasi in diritto all'arrivo Supply Trade Town Buy Vediamo che cosa hanno Buy Medikit Buy Perché ci servono Vediamo Buy Ammo Perché ci serve E Danno un istante Andiamo a vedere In Supply Scavenge Ok L'attività Deadly Immortale Che bello Cominciamo benissimo Mi sa che quel medikit Lo salutiamo questa volta Già Se ce ne viene uno in faccia Ora siamo morti Oh Vaffanculo Chiusi come degli stronzi Scavenge Di nuovo Attività Attività Hi Questo ce l'abbiamo Troppo al culo Questo pure E questo pure Ragazzi Non voglio più usare Medikit Ce l'abbiamo Un po' di Di proiettili Li usiamo Troppo Un po' di culo Ok Si continua Ci serve cibo Più medikit Molto più cibo C'è qualcosa altro che compare? Non c'è niente che compare Cazzo dai 115 di cibo E 5 di culo Scavenge Di nuovo Speriamo che non ci sia Attività deadly E c'è Attività alta Che equivale a sparare Tiriamoceli qua Per ora Ora ci verranno All'altro lato So che ci verranno In fronte Guardate quel carrello Invitantissimo Messo la dai Portiamoceli tutti Qua sopra Guardate quanto Corrono Si stronzi E' quello Proprio dove va Wow Questa è stata Una Prodezza Che ho fatto Ragazzi Voi non mi rendete Conto di cosa Io abbia fatto 370 Abbiamo 780 di culo Trade Town Andiamo A vendere Vendiamo Un Po' di Cibo Potremmo vendere Pure un po' di Scrap Però Self food Vendiamone 400 Sell Buy Ok Buy Medikit Subito Ok Buy Ammo Ok Sell Scrap Ragazzi Possiamo vendere Un po' di Scrap Tanto costa Vale un sacco Lo scrap Ne vendiamo Sai il 38 di scrap Valgono un sacco Buy Buy fuel 160 Buy Buy scrap Buy ammo Non possiamo Andiamo 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 pur di nuovo Sell Sell Scrap Quanto vale Quel cazzo di scrap 35 35 Abbiamo 140 Sell Subito E andiamo su buy E ci compriamo quest'ammo Non c'è più ammo Abbiamo 83 32 C'è ancora fuel Sell Di nuovo Ragazzi andiamo proprio sul sicuro Perché 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 Sta 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 finendo qua Sell Sta finendo la cosa Buy fuel E Sell Scrap di nuovo Un altro Un altro Sell Ok Ora Andiamoci a un istante qua Party Dobbiamo riposare un pochettino Per un'oretta Per far stare bene Il nostro amico Toll to stranger Car Roadmap Repair Setpiece Upgrade Sono sempre le stesse In town Jobs Autoshop Cosa abbiamo Buy tires Benissimo Buy Upgrade Vediamo Muffles Never needs replacing Buy subito Abbiamo subito Comprato Bellissimo Repairs Non c'è bisogno Ragazzi Muffles Non ne abbiamo più bisogno Andiamo di nuovo su Town Sell Sell ammo Sell medikit Sell scrap Diventiamo un po' ricchi Ok Sell Done Car Non c'è Niente più Che possiamo fare Che ci interessa fare Perché supply Siamo Food Forse Un po' di Ecco Va bene Time Buy Buy Fuel 5 E buy Compriamo pure Buy food No ragazzi Il cibo vale Cancel Done Direi che Di lasciare Live Ok Va bene Scusate un istante Mi è arrivato un messaggio Tanto so chi Ah no È la mia ragazza Non è una rottura La mia ragazza Mia moglie Mia moglie Vediamo che vuole mia moglie Ve lo dico in anteprima So che non me ne fotte un cazzo Però vediamo Fra parentesi ragazzi Consigliatemi Un buon Cellulare Perché Devo cambiare Quello che ho Lo devo cambiare Da parecchio tempo E che ogni volta Che ne voglio comprare Un nuovo Non iPhone No Ai qualcosa Sono allergico A tutto quello che ha Un Ai Davanti Non mi piace Cerchiamo Di Di consigliare Avvolsciente Un cellulare Che sia molto veloce Ragazzi Vorrei Il più Buono Che c'è Sul mercato Perché Non lo cambio Spesso Lo cambio Proprio quando Quello mio Ultimo Muore E quello mio Ora è troppo lento Non è morto ancora Però dopo tanti anni Ancora qua Ok Abbiamo Lord Size large Abbiamo Una 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 grande Orda di zombie Or disposition Alert E allerta Wait to see If the or Disappear Possiamo aspettare Che l'orda Scompaia Break out guns And clear the path Attempt to sneak through No Non mi sa Che Cominciare Perché allerta Hire mercenaries To escort you Get information About Your choice Paghiamo De mercenari De mercenari Le leader Says 50 dollar 50 dollar 50 dollar Paghiamo 50 dollar Romero No longer Res Misleas Romero Sta bene Va bene I mercenari Stanno pulendo Tutto Costato 50 dollari Ma noi Giochiamola Sul Sul sicuro Ok I mercenari Stanno pulendo La strada E ci abbiamo fatta The mercenari Successfully Escort you Through the Horde Ok 570 miglia All'airbase Statistiche 57 di fuel Che sono Più che buone Abbiamo abbastanza Cibo Non tantissimo Cominciamo Io non sono messo Benissimo Però You find Some roadkill It's probably safe to eat Ok Finora nessuna devastazione Vediamo come siamo messi qua Ok A heavy fog Abbiamo Andiamo Lenti Perché c'è Nebbia Nel frattempo Ragazzi Ho visto che Il mio video Quello che ho fatto Su Yotobi Eccetera Eccetera Ha ricevuto Quasi un migliaio Di like Grazie mille Si aggiornano Più i like Che le visualizzazioni Perché quando superano 300 Youtube Non le Non le Aggiornano Un tempo reale Grazie The sky Clears up Vi ricordo sempre Comunicazioni Servizio Andatevi a vedere Hotline Miami 2 Ragazzi È un gioco Fighissimo Cioè Guardatevelo Perché È una musica Fantastica You don't notice The speed bump It's the Ok Sbattiamo la testa E ci facciamo tutti male Che culo Come cazzo Romero Si siede Pesantemente Su un cazzo Di copertone Lo rovina Come cazzo Quanto cazzo Pesa Romero Devo metterli Devo razionare il cibo Devo far morire Un po' di fame Peserà 300 kg Romero Ok Qua siamo tutti malissimo Mia moglie Di alla becca Neanche a dirlo Romero La station wagon Sta meglio degli altri Che è quanto dire You find some roadkill It's probably safe to eat Va bene Buona notizia Quanto continuano a trovare Animali uccisi No roadkill Quelli che vengono investiti Sono buoni Attire broken You don't have the supplies To replace it Trading For one Oh mio dio Clear to continue The airbase Siamo arrivati con Oh Siamo arrivati con Un copertone rotto Però All'airbase Vai Dove non hanno Un cazzo Combat trainer Known techniques Carry capacity Ok There is nothing new I can teach you Non ho niente da farci Da Da insegnarci Parti Rest Per quattro ore Proprio O veloce Done Rest Ci serve cibo Qua non hanno Un cazzo Ragazzi Siamo messi male Dobbiamo fare un po' di trade Dobbiamo vendere Dello scrap Ok Quattro ore Perfetto Supply Scavenge Trade Rationing Town Sell Scrap Vendiamo un bel 50 di scrap Ci servono soldi Sell Ok Abbiamo soldi Ora Ci serve un po' di cibo Supply Scavenge Mi sa che l'attività Qua sarà Deadly Siamo alla fine del gioco Ai Ok Abbiamo trovato un po' di cibo Non è come un carrello Però Neanche Ma sta accelerando Questo zombie In maniera Considerevole Stiamo trovando Almeno quello che ci serviva Ma frega ragazzi Io sparo qua Devo rimanere in vita Ci sono dei soldi Sono secondari per ora Perché tutto lo scrap Che abbiamo fatto Wow Ok Ce l'abbiamo fatta 450 di cibo Andiamo su Car Roadmap Vediamo dove siamo WAM Guardate quanto Ci ha portati Lontano Questa avventura Grazie a tutti voi Che siete rimasti con me Parti Devo Medikitarmi Done Ora Dobbiamo fare un po' di trade Fuel Zero Type Non abbiamo Non abbiamo Copertoni Ok Keep waiting Abbiamo un po' di cibo Per aspettare Mi sa che Keep waiting Keep waiting Continuiamo ad aspettare Ok Ok You meet someone Who will spare one of their tire For one of your scrap Subito Minchia Ci hanno fatto un copertone Per uno di scrap Che culo Keep waiting Keep waiting Ok You meet someone Who will spare one of their fuel For one of your battery No Perché abbiamo Battery Ne abbiamo due You survive You survive 84 of their food To offer for one of your tire No Keep waiting Vogliono cibo per copertoni Che non abbiamo Keep waiting Non ho aggiornato il numero di copertoni Però Ok You survive 29 of their dollar To offer for 70 of your food No No A stranger is willing to trade one of their tire For one of your muffles Sì perché Non abbiamo bisogno di You survive one of their tire To offer for 30 of your ammo No Keep waiting Ragazzi Ora ci serve un altro muffles E dovremmo essere a posto Vediamo come Si evolve One of your tire For one of their muffles No It's a one who will spare One of their muffles For two of your medkit No Seven of your scrap For one of their muffles Sì Ok Ragazzi Siamo Pronti per Andare Direi E Forse Questa è l'ultima parte del nostro viaggio Continuiamo Non abbiamo medicato la station wagon Niente Roadkill Che è stato un errore grandissimo Ci siamo presi dall'impazienza Al prossimo checkpoint 232 miglia A bandit shoot out one of your tire And drives off Dick You replace it from the supply Allora un bandito spara uno dei nostri copertoni E Per dire Lo rompe Per fare cazzone Lo rimpiazziamo E andiamo Va bene Health The only water you can find Is sludge from runoff drain Oh Vediamo acqua schifosa Dalla Dalla cazzo di fognatura Che sfiga Heavy Rumble L'esempio di your car stuck Si è bloccata la macchina Continuiamo Nel frattempo L'attività zombie alta 97 miglia Siamo molto vicini 52 miglia You stop suddenly to avoid eating a zombie And everyone was whiplashed Oh mio dio Tutti quanti si prendono un bel colpo di frusta Perché ci fermiamo E siamo arrivati 7 miglia Vediamo se non c'è nessun altro evento Siamo a safe haven Paradiso Della salvezza Hi there Ciao Benvenuto al Al paradiso Del paradiso Della sicurezza Della salvezza I let you in But our power grid Is down For maintenance Ti farei entrare Ma la nostra griglia di sicurezza Non funziona Perché La stanno riparando You need to power the bridge If you want to get in Devi riparare il ponte Dare elettricità al ponte Se vuoi entrare Ci dovrebbe essere Un vecchio generatore A gas E un pochettino Di Di fuel E un pochettino Di carburante In giro Vicino al generatore Go gather it up And Harry Vai Prendilo E sbrigati Sembra Che ci sia Un'orda Per strada Ragazzi Ok Dobbiamo prendere Questo cazzo di fuel Oh mio dio Questa che è la missione finale Oh mio dio Dove dobbiamo andare Mio dio Mio dio Oh mio dio Ah Devo Devo riempirlo Ok Devo andare avanti e indietro Praticamente Ho fatto un sacco di strade Inutilmente Devo andare A riempirlo E ho fatto un sacco di strade Inutilmente Ragazzi Qua la chiave Per tutto E Semplicemente Uccidere quanti più zombie Possibile Ok Sono stato un cecchino Devo farcela qua Devo andare qua Praticamente Tornare Prendere Quante più munizioni Possibile Ok Oh Guardate Quanti sono qua Uno Due Quello è morto così Morto di infarto Ragazzi A volte muoiono di infarto Mio dio Devo cercare di Oh Ma che è uno shotgun È potentissimo Sto cosa che ho Ragazzi Gli ultimi momenti Vediamo se ce la faremo Per fortuna Ho un sacco di Di vite Praticamente Non sono solo Quello è morto così Si decomponga Ah no Ci sparano i miei Quando sono vicino Sì Il team Insieme Purtroppo sono stato Penalizzato Perché non Niente Perché Fanboy è morto All La prima botta Però Bellissimo Devo avvicinarmi Me li ripuliscono loro Me li ripuliscono loro Vediamo se è vero Sì Ragazzi Il team work Questa È la prima parte Volta dove si vede Dove si vede L'efficacia Dell'aver tenuto Quasi tutti in vita Tranne fanboy Che ci ha lasciato Il primo episodio Non ci fermiamo Per questo Prendiamo Uno sparo Un po' che tira Un colpo più facile Di quello Quando sono Dietro di noi Andiamo avanti Ce la faremo Dai Arriveremo Nel nostro Paradiso Salverò pure Addia la becca Mi ha dato problemi Eppure mia moglie Che mi ha rotto le scatole In un anio Indicibile Dai ragazzi Guardate come sono In combattimento Ma noi voglio bene Che eccitante Sono tutto eccitato Sono tutto eccitato Andiamo 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 Oh Oh Quelli sparano All'impazzata Ci sarà un boss Un qualcosa Prendiamo questo Non Facciamoci Ok Ok Ah un colpo L'ammazzati Qua va Un colpo È un morto Sprechiamo colpi Noi alla grande Oh ragazzi L'orda Comincia A diventare Più Ordosa La ripuliamo Velocemente Bene Quanto cazzo Vuole questo Generatore Di coso Per Per aprire Un cazzo Di coso Qualunque cosa sia Coso Coso Tutto coso È per me Dai 8 di 10 Non è male Via 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 Cominciamo Ad aumentare E noi Li ripuliamo Puliamo Puliamo Dai Missione finale Missione finale Ragazzi Speriamo Che non ci sia Un boss Un qualcosa La voglio Facile Oramai Sono una Macchina Da morte Il Il Fugino Ah è bravi Vedete come Ammazzano tutti quanti C'è l'ultima 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 Ragazzi L'orda L'orda Si avvicina Cerchiamo Andare da qua Ripulire Ripulire L'ultima Cazzo di cosa Dove Veloci 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 Prendiamo E facciamo pure Piazza pulita Prendiamoci pure Queste munizioni Veloci Ammazza 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 Si Guardate quanto corre Quel mezzo Zombo Via Vi sa Ce la faremo Ce la faremo Ci salveremo Ci salveremo Ci salveremo Ragazzi Grazie mille Per essere stati con me Durante questa avventura E' l'ultimo episodio E per quelli che lo stanno seguendo Spero che vi sia piaciuto Quanto è piaciuto a me Giocarlo Perché questo Questo gioco è una piccola gemma Ehm Veramente Che ne dicano gli altri E' un gioco dove si usa un po' l'immaginazione You start the generator And enter the safe haven Ragazzi Siamo Nella nostra zona Nel nostro paradiso Dove niente ci può toccare Si spera che non ci siamo sorprese Distance travel Ok Miglia Ehm Viaggiate 5700 Ehm Healthy party member 4 Incapped party members Ehm Incapacitati 0 Infetti 0 Station wagon Condition 57% Il Come La canacchina È il 57% Carburante 51,75% Scrap 204 Eciato 102 punti Medikids 2 Eciato 4 punti Eciato 4 punti per i proiettili 17 punti per il cibo 43 per i soldi Ehm 371 ore Ci abbiamo messo Ehm 629 punti Difficoltà rating Normal Non abbiamo scelto quella difficile Perché volevamo finire Ehm Totale 12.284 184 Si può fare pure lo share Ehm Vediamoci la leaderboard Vediamo Volshente Va bene Eh Online Non c'è Ah si Guardate qua Guardate qua Io sono solo 12.698 Back Ok Ragazzi Si può pure giocare una modalità senza fine Unlock the 50 additional tombstone Abbiamo ehm Sbloccato 50 pietre tombali Che culo 50 E questo di qua Ragazzi The man Where Too many hits Possiamo investirlo? Possiamo Kill count Possiamo distruggerli La nostra session wagon Uccidiamo Bin Martin And team McHohan Ok Odio Vedete quante persone hanno lavorato a questo giochettino eh Tatam Ha fatto un buon lavoro con l'audio Questo ragazzo Ok Questi sono gli artisti Che muoiono tutti Sotto le ruote di Volshente I designer Questa è in sedia a rotelle Sta a vedere se per caso è veramente in sedia a rotelle questo tizio Potrebbe essere che magari Abbia C'è qualche problema I Wow I consulenti per il design No Non ce la facciamo uccidere tutti Consultant design Quanti cazzo i design e i consulenti per il design hanno avuto? Kill count 28 Special tank Ringraziamenti speciali Ammazziamo tutti questi Qualcobè Grazie a tutti quanti Voi avete aiutato E noi ammazziamo Perché questa è la gratitudine di Volshente Ok Kickstarters Oh Tutti quelli che hanno fatto per il kickstarter Ragazzi Oh mio dio Qua c'è un miliardi di persone da uccidere Guardate questo è anche un grazie a tutti quelli che hanno dato il kickstart È un piacere Certe volte supportare giochi come questi Che non solo vedono la luce ma fanno pure divertire la gente Con qualche dollaro I loro nomi saranno Immortali E verranno schiacciati Come grazie dai giocatori Per sempre Finché qualcuno giocherà questo gioco Ci sarà sempre una possibilità per questi di morire e di essere zombificati Mamma mia non invidio quel povero disgraziato che ha dovuto scrivere tutti i nomi E cercare pure di non scriverli male Tra l'altro hanno pure Dei nomi lunghi Diciamo persone che hanno Dei soprannomi Quello si chiama Phil Flickinger Chi cazzo chiama Vabbè che cognome Flickinger Guardate quanti cazzo di bakers Ora io non so se sono miliardi Quelli che hanno dato sto kickstart Oh mio dio È bello sapere che tutte queste persone hanno giocato il gioco Cercando di investirsi nel momento in cui sono venuti a conoscenza Che i loro nomi erano là A vederli impazzire E vi immaginate se Se non riescono a vedere il loro nome così Così rigiocano nel nuovo gioco Impazzendo di nuovo per cercare il loro nome Consiglio un trucchetto Tutti quelli che hanno fatto il kickstarter C'è qualcuno italiano che non riesce a trovare il proprio nome Registrate Come sto facendo io Andate a guardare la registrazione di qualcuno E cercate il vostro nome È molto più facile Mamma mia quante persone ragazzi Possiamo fare un bellissimo skip Voglio arrivare a un conto di 200 Tanto siamo a 53 minuti sull'oretta di registrazione Lasciate un mi piace se la serie vi è piaciuta Se il gioco vi è piaciuto Se volete vedere più indie di questo tipo E ricordatevi di andare a dare un pochettino di mi piace Un po' di amore Alla serie su Hotline Miami 2 Se vi siete persi il video che per ora sta facendo Per il mio canale Che è piccolino Quasi 300 visualizzazioni al giorno Su Zeb89 Yotobi Luke Bla 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 Come si chiama Voco ce ne fotte Andatevelo a guardare È un audiolog Siamo a 230 uccisioni Credo che può bastare Perché non so quanti cazzo di backers ci sono Qua per questo gioco Qua secondo me è andato con miliardi di persone E qualcuno ha passato due settimane a scrivere nomi Praticamente Da Volcente è tutto Diamo uno skip E qua The man who were Quello che caspita Grazie E alla prossima Ciao